Quanto tempo dura un terremoto? Un'ora? Un minuto? Un secondo? La domanda è facile, la risposta non lo è altrettanto. La definizione della durata di un terremoto è infatti piuttosto complessa. In linea di principio la durata di un evento sismico dipende dalla sua magnitudo e questo è abbastanza intuitivo. Più forte è il terremoto, più lungo sarà lo scuotimento da questo indotto. Questa durata è quella che viene percepita da un osservatore e dipende anche dalla distanza di questo osservatore dal punto origine. Infatti, le onde sismiche che percorrono grandi distanze possono riflettersi molte volte all'interno della Terra, ripresentarsi più volte alla superficie ed allungare quindi lo scuotimento. Per rispondere alla nostra domanda, in genere la durata del terremoto varia da pochi secondi per i terremoti di magnitudo inferiore fino a qualche minuto per quelli di grande magnitudo. In maniera rigorosa, però, la durata del terremoto è il tempo che impiega la faglia a rompersi. A sua volta, questo dipende da quanto è lunga la faglia e da quanta parte di quest'ultima si muove. Scusa, hai ricordato che chi è interessato può iscriversi al canale? No, hai ragione, lo faccio ora! Iscrivetevi al canale!